Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo88, vi ricordo come sempre il link vi riporta la home page del sito di Pampling, ormai lo sapete già ma siamo sotto a Natale e lì trovate un sacco di magliette, di felpe, zaini, scarpe, calzini, tutto rigorosamente a tema nerd, quindi per i regali natalizi è una cosa ottima. E se avete questi prodotti con il 20% di sconto usate, facendo questo con il codice di sconto vi laslo se spendete meno di 50€, se invece spendete di più con il codice sconto POWER25 avete il 25% di sconto, ma ora mando le ciance e passiamo subito al video di oggi. Dunque oggi è il 17 dicembre e io stasera guarderò in anteprima Star Wars episodio 9, l'ascesa di Skywalker, per cui la recensione se tu lo vuole uscirà domani, ma come ogni anno è tradizione che io faccia un video in cui provo a analizzare tutto quello che sappiamo per fare dei pronostici. A volte ci azzecco, come per episodio 7, dove avevo clamorosamente beccato tutte le varie ipotesi, a volte non ci becco manco per il cazzo, come ha caduto invece per episodio 8. Vediamo come andranno i pronostici per episodio 9, quindi vediamo un po' quali sono le ipotesi che si possono formulare. Innanzitutto, innanzitutto io credo che si possa iniziare con il toto morto. Allora, secondo me, in questo episodio, che è la conclusione della trilogia iniziata con il Risveglio della Forza, che era stato eletto sempre da J.J. Abrams, io credo che morirà Finn, anche perché Boyega recentemente ha avuto diversi scazzi con la produzione, ha detto che non vorrebbe mai finire su Disney+, c'era stata la faccenda di lui che aveva dimenticato stupidamente il copione di, se non sbaglio, proprio episodio 9 in albergo e una delle donne delle polizie se l'era rivenduto e poi Disney stesso aveva dovuto ricomprare il copione dall'acquirente per evitare che girassero leak riguardanti l'episodio, però sembrerebbe che i leak di Reddit derivassero proprio da quello. Però, onestamente, non ci è dato saperlo e quindi, secondo me, Finn, comunque, per vari motivi, ci lascia e non ci mancherà, sicuramente non mancherà a me. Poi, io temo che a lasciarci sarà anche C3PO, per vari motivi. È vero che quando lui dice, guardo i miei amici per l'ultima volta, non significa che lui stia andando necessariamente a morire. Certo è che in quella scena, nel trailer, stanno eseguendo alcune riparazioni barra potenziamenti sul suo corpo, quindi può essere che gli stiano mettendo dentro una bomba, per quello che ne sappiamo. sta di fatto che, secondo me, C3PO potrebbe morire perché è uno dei simboli della saga di Star Wars e continua a menarcela con il fatto che è la fine della saga, degli Skywalker e bla bla bla, quindi far saltare C3PO potrebbe essere un modo per mettere un punto a questa parentesi riguardante Star Wars che poi, chiamo alla parentesi, la serie di Skywalker è Star Wars. Infatti vedremo cosa succederà in futuro, però comunque, fin come Rogue One o solo a Star Wars Story hanno dimostrato che anche senza gli Skywalker, volendo, le cose possono funzionare, però in ciascuno di questi c'erano dei riferimenti, per cui fare qualcosa che non c'entra con quei personaggi della saga, poco potrebbe dire, beh, oddio, Star Wars ha sempre avuto a che fare con Han Solo, quindi solo a Star Wars Story non dimostra nulla. In realtà dimostra che anche senza parlare necessariamente di Jedi e quant'altro può funzionare esattamente come in Rogue One. Certo, era tutto però ambientato nello stesso universo, per cui vedremo cosa ne sarà del futuro della saga. Per cui, sostanzialmente, io credo che C3PO verrà distrutto, ma non R2D2, perché altrimenti i bambini piangono troppo, perché la Disney ha questo tipo di politica. Poi, io ormai ho capito che con i personaggi storici non sono molto gentili, quindi io temo che ci lascerà anche Lando. Sarebbe veramente assurdo, perché è possibile che ogni personaggio storico della saga che mettono in questi capitoli debba per forza crepare? Però secondo me crepa, ma crepa eroicamente su Millennium Falcon, quindi altro simbolo di Star Wars, ci vediamo in un'altra vita. Per cui, secondo me, doppietta. Millennium Falcon seccato insieme a Lando Calrissian, perché c'è Billy Dee Williams nel film, quindi anche qui secondo me possiamo fare il saluto militare senza troppi problemi, per cui le morti principali secondo me sono queste. Inizialmente ho pensato, potrebbe lasciarci anche Podemeron, ma non lo so, non ce lo vedo molto a crepare male. Rey e Kylo Ren invece io penso si salvino, e anzi, altro pronostico sciolto. Io credo che loro due, a un certo punto, si alleino e mettano in piedi quello che sarà una sorta di ordine simile a quello dei Jedi Grigi, nel senso che è un ordine che tiene in conto che in ciascuno c'è simultaneamente il lato chiaro e il lato oscuro della forza e che quindi non è tutto bianco-nero necessariamente. Per cui un ordine che insegna ai giovani come gestire questi due lati che cercano di prevalere l'uno sull'altro. Io penso a una cosa del genere, perché Kylo Ren è la dimostrazione di questo, perché io sono sempre convinto che Kylo Ren si scoprirà che in realtà lui sente il richiamo della luce, ma continua a voler far prevalere il lato oscuro per motivi vari, perché nell'episodio 8 sembrava che questo non sarebbe successo, invece io penso che Abrams farà una retcon di varie cose. Ci sarà una retcon su questa cosa di Kylo Ren, tant'è vero che metterà di nuovo la maschera. Ci sarà una retcon su Rey. Io penso che Rey si scoprirà che non è che si è stato venduto per bere, ma secondo me Rey potrebbe essere... Io punto su un clone. Io punto sulla clonazione, ma un clone, cioè diciamo che non un clone identico, non è che c'è un'altra Rey da qualche parte. Secondo me lei è o un clone di Palpatine o addirittura un clone di Luke Skywalker, ma sviluppato come donna. Quindi non figlia ma clone, però secondo me Rey è quello. Potrebbe essere un clone di Palpatine in cui l'imperatore possa incarnarsi, perché molti si chiedevano ma è vivo, non è vivo? Io credo che più che vivo lui abbia ingannato la morte grazie agli insegnamenti di Darth Plagueis il saggio, ok? Ma il modo di ingannare la morte io lo intendo come un qualcosa alla Voldemort, cioè Voldemort dopo quello che era accaduto era ancora vivo ma non vivo, ok? Però di fatto lo era, grazie agli Horcrux, grazie a tutti i magheggi che avevano fatto. Quindi secondo me è una cosa di questo tipo. Io ho ipotizzato che lei potesse essere o un clone di lui stesso o un clone di Luke come corpo per permettere a Palpatine di tornare, ok? Di tornare per davvero. Una roba anche alla Sauron, se vogliamo, esiste ancora ma non possiede ancora un corpo di potenza. E quindi hanno creato Rey a partire o dai suoi geni o da quelli Luke Skywalker per, appunto, fare da ospite a Palpatine. il motivo per cui c'è il lato scuro e il lato chiaro che sono così netti dentro di lei. Potrebbero anche essere i geni di entrambi, quindi un clone che contiene i geni sia di Luke che dell'imperatore, di Darth Sidious, in modo da creare la potenza, l'equilibrio della forza perfetto. Perché potrebbe anche essere che Palpatine abbia pensato. L'ultima volta io ho abbracciato il lato scuro e quindi con un corpo dedito al lato scuro ho fallito. Se adesso avessi un corpo che contiene perfettamente il lato scuro e il lato chiaro avrei il potere totale. Può essere una puttanata, sì, sicuramente, però non so come mai, potrebbe anche avere un senso. Vediamo che cosa accadrà. Però, perché no? Perché no? Alla fine, se ci pensate, potrebbe anche starci. Quindi io vedo un finale agrodolce con alcuni morti, ma con il potere del primo ordine e quant'altro annientato e l'imperatore, anche lui, annientato a sua volta e loro due, re e calorem, che creano questo nuovo ordine di cavalieri geni che, per l'appunto, inizierà una nuova era della forza, la forza democratica, quella che è un po' in tutti noi, come vedete, dal finale di episodio 8. Poi, i cavalieri di Ren, secondo me, saranno dei personaggi interessanti da un punto di vista visivo, ma poco importanti ai fini della trama. Cioè, saranno personaggi non caratterizzati che però avranno un certo appeal. Saranno un po' come i membri del Black Order di Thanos. Non te li approfondiscono, sono dei cattivoni dall'aspetto caratteristico che fanno il loro. Narrativamente, non è che abbiano tutto questo peso, servono a ostacolare i personaggi protagonisti. E io credo che la stessa cosa accadrà qua e che Kylo Ren, per appunto, si ritroverà a combattere contro i suoi stessi fratelli, in senso lato. Quindi, staremo a vedere anche qui che cosa abbiano in servo per noi, però secondo me sarà una cosa di questo tipo. E poi non è che ci sia tanto altro su cui potrei effettivamente speculare. Sono le cose principali che mi sono venute in mente, perché il mistero più grande era Palpatine. E secondo me, sì, esiste. Ed è quella cosa che ho detto, sono convinto che esista in una forma magari eterea, nel senso che esiste, ma non può fare niente di più. Cioè, io sono convinto che la questione di Snow, che quant'altro l'abbia tutta preparata lui, sia tutto un suo piano, tutta una sua macchinazione per arrivare a prendere, per appunto, una forma nuova. Per cui credo che lui esista, ma che sia debole a livello di azione personale, e che abbia orchestrato tutto per arrivare. Anche perché sarebbe un piano alla Palpatine, un piano che ci mette anni e anni per maturare, fino a che poi non riesce a prendere il potere. Solo che questa volta non credo che ce la farà. Per cui, questo è quello che pensavo. Questi sono i pronostici principali che mi sentivo di avanzare. fatemi sapere voi che cosa ne pensate, perché potrebbe essere interessante scoprire insieme che cosa questa conclusione della saga abbia in servo per noi. Io vi abbraccio, questo è tanto, ma tanto, ma tanto bene, e noi ci vediamo al prossimo weblog. Ciao a tutti.